Il Giappone revoca il divieto di esportare armi. Dopo mezzo secolo, Tokyo annuncia che potrà vendere materiale militare ai paesi che si trovano lungo le vie marittime per le quali transitano le importazioni di petrolio e gas. Potrebbero dunque essere interessati l'Indonesia, il Vietnam e le Filippine. La decisione di esportare nuovamente le armi è stata presa basandosi su un principio fondamentale. L'obiettivo che cerchiamo di raggiungere è quello di consentire il movimento di armi di difesa all'estero, in conformità con le norme di sicurezza ambientali e in linea con le eccezioni che sono state ammesse. La decisione del governo di Shinzo Abe arriva in un momento di crescente tensione con la Cina. La politica militare del Giappone riguarda la stabilità della regione. Seguiamo questo processo con grande attenzione, chiediamo al Giappone di imparare la lezione della storia e di dare risposte alle forti preoccupazioni dei paesi vicini. Le nuove regole consentono a Tokyo lo sviluppo e la produzione di armamenti in partnership con gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali, in particolare per i caccia bombardieri F-35.